Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo, questa la frase con cui si è dato inizio presso il teatro Sibarisi di Castrovillari al primo memorial di danza il ricordo di Angela Ciraudo, una giovane maestra di danza prematuramente scomparsa che ha lasciato in tanti che la conoscevano la bellezza che si portava dentro e fuori. Questo è il suo teatro, il teatro dove ha fatto tanti saggi, è un teatro che amava ed è giusto che si dia il giusto riconoscimento ad Angela per il suo percorso. La serata è stato un racconto intimo e pubblico del suo mondo, della passione della danza, della sua capacità di essere donna, amica, maestra e guida. Le frasi che sui social sono state scritte da chi veramente l'ha conosciuta, il tutto naturalmente a passo di danza, passione coltivata sin da piccola. Ci sono i suoi amici, i suoi colleghi maestri del suo mondo, del mondo caraibico, molto probabilmente la manifestazione che Angela preferiva perché la sua passione è stata sempre il ballo, il barlalò caraibico. Ci sono tanti amici di Rossano, di Corigliano, di Cosenza che sono venute a renderle onore. Sul palco alcuni dei suoi compagni di viaggio nell'arte della danza, ballerini, maestri, le sue allieve che al ritmo di danza ne hanno ricordato la passione, l'energia, la profondità di una giovane donna che ha lasciato semi e segni che oggi fioriscono in varie sfumature, tutte legate insieme dall'associazione L'Angelo della Danza che porta appunto il suo nome. Angela che cosa avrebbe detto prima di iniziare un suo saggio? Quando c'erano i saggi casa mia era un'officina di lavoro, c'era la sartoria, c'era chi provava, c'era chi vestiva e poi lei non so come faceva a coordinarsi, faceva anche la truccatrice.